witch bean witch bean che bella questa intro unboxing ciao creatura io sono meccati splendente e benvenuta o bentornata nel regno di buona domenica abbiamo spostato l'orario per praticità no? domenica pomeriggio alle 14 giusto giusto per fare un riposino dopo pranzo mi sembrava l'orario più adatto non so perchè avessi scelto le 17 poco a caso witch bean 2022 vi piace come dice witch bean all'inizio non so se si è sentito eccoci qua io ti invito già a mettermi un like e un commentino random ma anche un emoji un cuoricino una stellina un orsacchiotto un pinguino quello che vuoi prima di addormentarti per supportare il mio canale grazie mille creatura a tutte le persone che mi supportano a tutte le creature che mi supportano andiamo a giocare insieme che questo gioco è fantastico super super rilassante vediamo insieme faremo due stanze vediamo quanto ci mettiamo non so ancora come suddividere abbiamo detto abbiamo cinque stanze magari ne facciamo due oggi e tre la prossima volta perchè di solito la cucina e il bagno non so vediamo 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 intanto siamo qua e arrediamo questo mi piace che c'è questo cosplay questo vestito da sailor a me ricorda una sailor andiamo ad aprire la prima scatola ma credo sia un dvd o un libro e dvd li possiamo mettere qui sì credo sia un videogioco anche potrebbe essere intanto andiamo a riporlo qui poi vediamo è più piccino questo potrebbe essere un dvd e quell'altro un videogioco vediamo il retro di questo sì sembra proprio un videogioco quindi li dividiamo questa se non sbaglio l'avevamo già anche nella prima stanza questa action figure e anche questo che non ho ancora capito cos'era forse era un videogioco sì perché sono alti più o meno uguali questo è un libro però qui non ci sta perché è troppo grande sembrerebbe un un libro di illustrazioni questo potrebbe essere è troppo grande qui non ci sta quindi andrebbe per forza qui o così ci sono dei dei giochi anche qua potrebbe andare questi si possono togliere sembrano simili la lascio qui ah questa mi sa che va mi sa che va in camera da letto ah questa era il soggiorno qui c'è l'ormaggio vediamo wow potrebbe andare o in un cassetto ma no nella scrivania giusto no qui appesa magari ok no mettiamola su quella blu sulla crucia blu vediamo intanto che bel bagnetto questa è la cucina con i piatti sporchi ah questa era la sala da pranzo piccolina piccolina si può fare insieme a le tre stanze piccole cucina bagno sala da pranzo e oggi allora faremo questo e la camera da letto va bene? ok e intanto uno scatolone è andato qua c'è della roba per terra tra l'altro un quadro di una ballerina danzante beh per forza c'è una ballerina sembrava quella di tipo ginnastica artistica che belli queste cose qui non so come si chiamano lo stereo potrebbe andare sia qua che in camera intanto lo mettiamo qua poi vediamo queste cose non si possono spostare no? ok neanche le cose per terra no? ok ah un porta qualcosa questo se non sbaglio l'avevo visto nella camera da letto e l'avevamo messo nell'armadio ti ricordi? però non so cosa contenga non ho idea la lascio qua intanto poi vedremo possiamo anche schiaffare qua sopra ti è? ok allora andiamo a vedere che cos'altro troviamo tanto dobbiamo fare camera da letto dopo quindi uuuu ma in realtà è un po' un misto dov'è la cucina? è l'ultima stanza è il pentolone della nonna il pentolone della nonna si può mettere qua oppure si può anche riporre qua se ci sta ma no mi so che non ci sta neanche andiamo un po' vedo che la cucina è un po' più grande di quella che avevamo nell'altra nella casa perché abbiamo traslocato giustamente è un'altra epoca è un altro periodo è un altro periodo della nostra vita film film o videogioco vediamo un po' sembrerebbe il labirinto del fauno questo è un gioco da tavola forse ah vedi qui ci sta lo mettiamo qua e mi so che è finito ok un altro quadro bellissimo che bello questo che bello è bellissimo cos'è Zelda? no non lo so sembra Zelda ha un altro controller di un colore diverso lo mettiamo qua collezionando anche tutti gli altri forse forse di un'altra console sembrerebbe un altro un altro stereo fatto diverso no? o è fa parte di o è così è una console che non conosco forse può essere intanto la andiamo a mettere qua poi magari nei commenti mi aiuti perché dopo nella puntata dopo posso spostare le cose che tu mi dici no guarda ecati quella lì non era proprio una cosa andrebbe da un'altra parte e allora io cambierò nella puntata dopo eh vedi però ci sono dei controller di colore diverso in camera c'era una tv per caso andiamo a vedere no però potrebbe essere una cosa che si usa col computer ora quanti scatoloni abbiamo per dopo tantissimi non lo so intanto mettiamo lì videogioco o film videogioco videogioco ho deciso così videogioco o film mi sembrerebbe un videogioco mi sembrerebbe un videogioco stessa domanda mi sembrerebbe un dirutti vediamo sì ok una coperta tutta vecchia tra l'altro potrebbe stare sia sul divano c'è anche la borsa dell'acqua calda oppure potrebbe stare anche in camera da letto vediamo beh intanto la mettiamo sul divano perché sul divano una copertina ci starebbe però non piegata così vediamo qui potrei metterla dentro l'armadio ah ma c'era anche tutto questo scomparpo che non avevo visto quindi in realtà la camicetta si potrebbe mettere anche via così si ah ci sono pure i cassetti pure i cassetti qua andrei a mettere anche le la coperta metterei qua o delle scarpe anche se le scarpe si possono mettere anche qua vabbè ci penseremo dopo la coperta intanto la facciamo lì tanto se sbagliamo qualcosa lui alla fine ce lo notifica il gioco quindi film o tv c'è tv o gioco un po' tv non ce ne stanno più ah accidenti allora facciamo qua un attimo ok qui c'è qualcosa non so cosa sia c'è un po' di disordine vedo eh ok ok allora andiamo in camera da letto che qui ne abbiamo questi colori allora intanto lo mettiamo qua cos'è sta roba? un fogliettino o un disegno tipo uno sketch ah ok perfetto lo mettiamo qui questo sicuramente va qua dritto con la sedia mi raccomando un altro allora mi sa che questi li mettiamo qua si possono mettere in piedi sì benissimo però non mi piace cioè mi sarebbe piaciuto che si vedesse qua il immaculato non si vede incidente niente non si vede immaculato ehm questo è un altro tipo di agendino lo mettiamo qua sembra un un journal come si chiama? anche i soliti pastelli perché ci piace colorare ci stanno qua dentro ovviamente no qui non ci stanno ah ci stanno qua altre cose per colorare però quello occupa tutto non mi piace questa cosa ok in realtà queste potrebbero andare anche qua pennarelli eh vedi sono quei si possono mettere anche sopra grandi sono quei pennarelli che vorrei io che sono a base alcolica con lo spritz no? che se anche ci passi sopra quando colori nella stessa passata diciamo non creano quell'effetto brutto che fanno i pennarelli normali ovvero che si vede il segno ecco si vede hanno sia la punta pennarello sia la punta pennello e e poi ci puoi fare le sfumature e sfumarli con altri colori sempre di quella tipologia lì non so fare la sfumatura tra il giallo e il rosso per esempio viene l'arancione e mi piacerebbe tantissimo averli ho visto su amazon ci sono però costano abbastanza però ci sono tanti colori e e dopo ci farei dei video smr dove coloro quindi se qualcuno me li vuole regalare sono nella mia wishlist e poi dopo ovviamente farei dei video la solita gomma direi così siamo degli artisti comunque sei notato una specie di calendario un'altra secondo me sono tutti cose che usiamo per studiare o tutti i quaderni che usiamo per disegnare oh non c'è il comodino oh oh dove mettiamo la sveglia tocca metterla nella scrivania no no mettiamo qua allora intanto se non va bene la ce la notificherò qualcuno di voi mi dirà qua no ma ecco a te non va lì ah c'è ancora il nostro nascondiglio una cartolina che è un viaggio che qualcuno ci ha mandato sicuramente un'altra cartolina un'altro viaggio un'altra cartolina ah il nostro adorato lettore mp3 che non sta dentro qua però vabbè lo mettiamo qua un dato una crugia un dato un dato per giocare a D&D o qualche gioco di ruolo ah tra l'altro io volevo prendermi lo stampino per farli di resina chissà se me lo comprerò una tavoletta grafica per disegnare bella quella di una volta proprio dove praticamente ehm disegni qui però guardi qui e se andava malissimo mamma mia io andavo malissimo il nostro solito tappetino per il mouse tutto consumato perché l'abbiamo usato in anni anni e anni questo lo sposto qua perché qua devo avere il braccio libero per disegnare e per usare il mouse il mouse ovviamente è rimasto quello con la pallina ah allora aspetta eh questo serve per disegnare beh lo useremo all'occorrenza va bene? sì per forza qua l'agenda la mettiamo qua per adesso potremmo anche metterla qui bene mettiamo un po' altri quaderni ad anelli questo sembrerebbe un libro lo mettiamo qua per adesso un altro libro questo cos'è? ok una console una console portatile sembra un la PS PSP forse dei giochini per questa non ci sta qua vero? no e dentro qua ci sta sì però non ci sta nei giochini accidenti mettiamo via la gomma dove è il problema? e voilà è tutto incastrato perfettamente oh no da toglierti la gomma volendo ci sta qua sopra da qualcos'altro no? beh la gomma la mettiamo tra i colori hai visto? un altro libro un altro libro non ce ne sta più qua accidenti devo togliere questo al lettore che potrebbe anche restare qua in realtà ecco un altro libro poi 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 oh il nostro maialino lo mettiamo qua perché siamo affezionati a lui dovremmo trovare un nome al nostro maialino o no iniziamo con le mutande però visto i cassetti sono anche più grandi faremo altri abbinamenti con la solita eh non so quali siano i calzini quali siano le mutande comunque per adesso mettiamo tutto insieme poi dopo vedremo come distribuirle in modo più estetico abbiamo anche le mutandine con i fiocchettini maglietta ah il solito eh lo possiamo mettere qua il solito contenitore qua il pauletto che abbiamo per tenere tutti i nostri documenti importante in ogni casa una gonna oh ma dai non si apriva giustamente l'armadio e beh giustamente l'armadio non si apriva se il cassetto non veniva prima chiuso cioè proprio come nella realtà allora io la cona la vorrei spostare qua per dare un ordine ok? è giusto ah cacchio il computer mi so che andava qua no non ci sta mi sono deciso aspetta no e non avevo pensato eh perchè è incastrato perfettamente eh sti colore non so mai dove metterli schiaffiamo tutto lì no però la gomma mi serve la metto qua perchè se mi metto se ho il porta penne e le matite e la gomma mi serve è disponibile subito ecco abbiamo finito uno scatolone era solo per il computer come l'altra volta un cappellino metterei qua calze calze oh mutande nere credo siano calze altre calze altre calze il nostro album dei ricordi che è quello che abbiamo scelto all'inizio poi tra l'altro se l'hai notato se l'hai notato vediamo qua cosa ci potremmo mettere di solito mettiamo i reggiseni l'album mettiamo qua per adesso gli altri calzini mutandine con il fiocchettino ecco lì no volevo chiudere il cassetto ok il nostro reggiseno nero una scarpa intanto lo andiamo a mettere qua ok abbiamo anche finalmente lo stivale non è andato perduto giusto? dimentico ok perfetto anche poi se no i pantaloni non vanno su queste cruci qui vanno su queste che sono quelle proprio cioè ho fatto tutto i minimi dettagli devo dire adoro un'altra gonna non abbiamo più cruce quindi questa gonna sarà piegata oppure vabbè piegiamo i pantaloni e le gonne le mettiamo a meno che non troviamo altre cruce fatte così però vabbè però vabbè però adesso mettiamo le camicia e le maglie qui e qua mettiamo i pantaloni ok 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 t-shirt t-shirt adesso le mettiamo tutte qui che bella questa verde viola abbiamo molte cose colorate comunque devo dire magari la giacca la mettiamo qua ok le scarpe sai le metterei qua a questo punto che ci stanno dottor martins rossi molto belli ok le converse che ho anche io però le ho tutte nere proprio tutte 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 nere la c nera di qua dove c'è il bianco le ho tutto nero tutto tutto nero ok un poster immagino che sia ma non me lo srotola perché non c'è più posto aspetta sta meglio il poster o il quadro questo mi sembra un quadro di una vittoria di qualcosa potremmo vantarcene magari non in camera ma in soggiorno il poster lo mettiamo in camera che quadro appunto sto solo si chiude la tenda per curiosità e se questo lo eh perfetto lo schiaffiamo qua sopra ciao tanti saluti ci sto ho finalmente la tre cruce pantaloni che però abbiamo deciso di mettere picotti abbiamo un sacco di jeans scuri è un frisbee questo per caso? vediamolo qua intanto credo sia una una scarpa non capisco sembrano quelle ah sono scarpe da ginnastica o quelle per andare sott'acqua tipo no? non so no no credo da ginnastica eh non capisco perché c'è lo scatolone che impiccia ok che è questa roba adesso cos'è sta roba? boh me lo direi tu reggiseno putantino cal 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 holds la nostra borsa da scapani ma se non so se non proprio io ci stacco non volevo metterla là beh intanto la bocca uno qua camicia Bel colore. Questa camicetta elegante la mettiamo qua. Ok, così non si stropiccia. Abbiamo la solita... questi sono da lavoro, mi sa. Eh, c'è anche il cappellino. Mi sa che cosa lavoriamo da Starbucks, forse. Anche questa camicia, quello è il simbolo lì. Allora, la divisa da lavoro. Vediamo, si può fare così. Mettere la divisa da lavoro insieme. Vediamo. Perfetto. Il tappeto per fare pilates. Oh, che bello. Sono proprio io. Però che non sto da nessuna parte. Eh, boh. Non lo so. Non so dove metterlo. Qua in alto. Questo lo spostiamo. Allora. il pigiamino. Il pigiamino. Il pigiamino. Mettiamolo in coppia, eh. Magliettina carina, caruccia. Mettiamo qua. Ah, questo va in bagno. Ah, questo mi sa che non va qua. Questo va in bagno, sono sicura. Quello per gli assorbenti, se ti ricordi. Vediamo qua. Ok. Qua non me lo fa mettere. Anche qua potrei metterlo in vicino all'altro bidoncino. Ok. Forse questo potrebbe andare in cucina. Non lo so. Peso. Ma i pesi, eh, il tappetino forse potrebbe andare in un'altra stanza. Ma quale? No, nessuno di qua fa. No, no, sono qua. No. Oh no, erano due. Ci stanno? Ovviamente no. Niente. Troveremo un altro posto. Ah, potremmo mettere. Ci stanno qua. C'è un chilo. Finito. Allora, pigiamini. Piggiamini, pigiamini, pigiamini. Allora, provo a fare così. Intanto faccio così, e poi dopo quando trovo la coppia, li metto insieme. Ok. Bene. La borsa, dove la mettiamo? Allora. Ci sta, guarda. Beh, intanto la mettiamo qua. Dopo ci penseremo. O qua, o qua. Sì, o quale. Perché qui non ci sta insieme a questo. Ah, ok. Allora la mettiamo qua. Ok, va bene. Qua mettiamo le borse. E questo, per favore, come l'altra volta che non avevo capito che quella era una sveglia. E se puoi dirmi secondo te cos'è questo oggetto. Guardalo, giro anche una cosa per acchiappare i fantasmi. Sai che secondo me è qualcosa che va abbinato a questo. No. Perché non sapevo cosa fosse. Sembrerebbe qualcosa che ha a che fare con la montagna. Ma lo so, questo qui azzurro mi ricorda qualcosa. Vabbè. Allora ci teniamo il bagno, la cucina e la camera da pranzo per domenica prossima. Come sempre io spero che questo video ti sia piaciuto. Ti auguro buon riposino perché buonanotte anche no. Dipende però se lo guarderai di notte, sera o di pomeriggio. Però so che fedelissimi le creature fedelissime li guardano subito. Quindi buon riposino pomeridiano della domenica e buon relax. ciao creatura buon relax. Grazie a tutti.